quindi secondo me stiamo sbagliando niente, torniamo indietro cercheremo una stradina sulla destra adesso se non la troviamo andiamo per i campi tanto non ci potremmo perdere a Tarsia dai sarebbe una grande vergogna siamo ufficialmente no, persi siamo a sentire le crape secondo me sta cosa finisce male McDonald's Panino a 8 o'clock buongiorno oggi andremo al lago di Tarsia quindi siamo al lago di Tarsia andiamo buona strada il lago di Tarsia è perfetto per fare bird watching infatti ci sono un tot di specie di uccelli diversi infatti tutti altri sono venuti qui con gente che ne capiva tutti con binocoli e macchiali vari mentre oggi non guarderemo uccelli ma cammineremo questo qui è il lago di Tarsia è un lago artificiale quindi in questo momento non c'è acqua non c'è non c'è non c'è vado tarsia Agli Erasmus ho detto che andavamo in Sila, sulla neve, invece no, perché sono un pochettino contrariati. Una bella sucamella. Stiamo aspettando per il tuo primo pochettino. Il testo di prima con la macchina ci ha detto che si può fare un anello, quindi l'abbiamo svoltato. Non torniamo dall'andata, la strada è l'andata, ma torniamo a un'altra strada che dovremmo trovare. Intanto, ci sono questi ruderi abbandonati che fanno degli esplori. Che bel sole che c'è! C'è la tua casa? Perché sei nero, questo è il risultato. Non mettere in un video, non si è insubscritto. Non si è insubscritto, ora! Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? È come una piattaforma di vino. Cosa vuoi? Cosa vuoi? ora si torna indietro dalla strada suggerita dal tizio di prima dal local quindi noi ci vediamo conoscerà i posti lui ed è molto figa in realtà e se funziona da questo giro l'anello è l'escursione della vita che puoi fare in estate in inverno in primavera quindi in caso la registri in qualche modo e la vendo le persone volete farvi il giro a tarsia 10 euro a matteo pic e vi dice il giro da fare matteo pic poi cinque ore li do pure dall'alto sul monte così non rompe ciao marco ciao 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 tu ti fai l'escursione io studio bravo bravo adesso sto cretino si è bloccato cazzo non si è bloccato per coppare di prima dicevo che ci sarebbe stata una strada sterrata questa è un più una mezzo sentiero quindi secondo me stiamo sbagliando ma finché continua andiamo avanti ma qui mi sa che finisce ah ma siamo di nuovo siamo di nuovo qua alle case di prima niente tornevo indietro cercheremo una stradina sulla destra adesso se non la troviamo andiamo per i campi tanto non siamo in non ci potremmo perdere a tarsia dai sarebbe una grande vergogna siamo ufficialmente non persi siamo nei sentieri delle crape secondo me sta cosa finisce male che bello quando i discorsi finiscono così vivo i sentieri brutti scassati con i rovi e i cinghiali abbasso le strade perfettine delle alpi ah mali do you like this kind of trucks esatto esatto io ero nato qui finisce la strada purtroppo era bello mannaggia non si lascia salire sulle colline troppi rovi quindi si torna indietro ah ah back to civiltà, adesso se non è troppo paludoso camminiamo sul lago grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti